Gli Stati Uniti chiedono il rilascio di Leopoldo Lopez e Antonio Ledesma, i due leader dell'opposizione venezuelana nuovamente arrestati dal SEBIN, il servizio bolivariano di intelligence. La Casa Bianca parla apertamente di azioni della dittatura di Maduro, sottolineando che il presidente venezuelano sia personalmente responsabile per la salute e la sicurezza degli arrestati. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez, sollecita i poteri dello Stato a fare tutti gli sforzi possibili per ridurre le tensioni. Stando alle informazioni in nostro possesso, c'è stato un uso eccessivo della forza. Abbiamo ricevuto anche rapporti di interventi condotti casa per casa dai funzionali di polizia. Invitiamo il governo ad astenersi dall'interprendere ulteriori passi che possano peggiorare la situazione. Il governo di Caracas conferma la svolta autoritaria ancora prima che sia installata la controversa assemblea costituente eletta domenica scorsa. Intanto, due magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia si sono rifugiati nell'ambasciata cilena Caracas. Altri tre giudici sono stati arrestati dal servizio di intelligence, almeno uno di loro è in esilio, e gli altri sono passati alla clandestinità.